Si è svolta ieri sera la convenzione del PD di Ischia, dove ha vinto la mozione del segretario uscente Matteo Renzi. Hanno votato in totale 58 iscritti. Il nostro circolo ha espresso la maggioranza dei voti, circa il 60% a favore della mozione Renzi e una parte invece minoritaria a favore della mozione Orlando. Sono stato io indicato quale delegato della sezione locale per andare a fare la votazione a livello provinciale in occasione delle primarie che poi si svolgeranno successivamente il 30 aprile per quanto riguarda i tre candidati. Oltre a Dottorino Matera, nella convenzione provinciale potrebbe essere presente anche Luigi Di Vaglia, in rappresentanza della mozione Orlando. Ma per sapere se Di Vaglia ci sarà, bisognerà attendere la conclusione di tutte le convenzioni di circolo della provincia e la ripartizione finale dei seggi. Il meccanismo che porta alle elezioni del segretario del PD è piuttosto articolata e si concluderà con le primarie del 30 aprile. La fase attualmente in corso, quella del voto nei circoli, terminerà il 2 aprile e servirà ad eleggere i delegati alle convenzioni provinciali, che a loro volta eleggeranno i delegati alla convenzione nazionale. Questo organismo si riunirà una sola volta, il 9 aprile, per verificare i dati riportati nei circoli dai singoli candidati a segretario e stabilire chi di loro potrà essere ammesso alle primarie. Secondo lo statuto del partito, infatti, risultano ammessi all'elezione del segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno 5 regioni o province autonome.